e allora pronti con il nostro oroscopo al manaco ciao da mauro oggi a san leone da auguri a tutte e voi a tutti voi compleanni nata oggi ambra angiolini presentatrice di noella rai allora attrice cantante ha fatto un po di tutto 22 aprile 1977 serena dandini anche lei ha a che fare con la tv ha condotto molti programmi sulla rai 22 aprile 1954 e il tempo passa per tutti la frase del giorno ci ricorda l'uomo che sposta le montagne beh comincia portando via i sassi più piccoli e mentre meditiamo su questa cosa andiamo a seguirli i 12 segni l'oroscopo di oggi 22 aprile ariete saturno consentirà oggi una svolta favorevole un po in tutti i campi mercurio vi regalerà incontri e vivacità nei rapporti con chi vi circonda tutti questi cambiamenti vi galvanizzano affronterete le cose con animo vincente evitate l'aggressività con il partner toro cercate di non esagerare per non rischiare un impoverimento di energie occasioni di svago sono da non perdere accettate gli inviti per questa sera e mostratevi aperti verso chi vi chiede disponibilità senza riserve alti e bassi per la vita di coppia gemelli piacevoli sorprese per la vita sentimentale di relazione si alleggerisce l'atmosfera familiare approfittatene per sciogliere vecchi nodi stimoli positivi da mercurio per chi viaggia o è in contatto con l'estero cancro armonia familiare da difendere una maggiore elasticità vi aiuta a non sciupare le cose e a ritrovare la via dell'intesa un ritardo non deve allarmarvi pianificate il lavoro per evitare sorprese e per rendere il weekend meno stressante leone una più serena valutazione delle cose giova all'equilibrio dei rapporti con chi amate fate attenzione ai messaggi anche taciti che arrivano dal partner evitate di polemizzare sul passato createvi però momenti di pausa tutti i vostri questa sera recupererete così un'ottima forma vergine chiedete consiglio a un esperto prima di varare un progetto qualche contraddizione in amore dovuta ad un umore instabile vivete alla giornata e non programmate la serenità è in vista bilancia grossi cambiamenti alla ribalta si inaugura una giornata positiva in cui potrete vivere situazioni gratificanti in piena libertà si impone però un coraggioso cambiamento non lasciatevi catturare da situazioni prive di incentivi vivacità in amore scorpione concentratevi su pensieri positivi e valorizzate gli aspetti migliori delle cose possibilità di risolvere un problema entrando in una prospettiva più ampia ricercate nuove vie ed espressione avete voglia di autenticità sagittario non date niente per scontato non aspettatevi novità in tutte le direzioni il dialogo amoroso è intenso ci sarà però qualche contraddizione che saprete superare parlandone a cuore aperto non esagerate nel mettere alla prova chi vi circonda cercate di fidarvi di più capricorno momento di alleggerimento prendete una decisione riguardo al futuro apritevi a idee nuove senza prevenzioni buona la vostra forma intellettuale vivace la comunicazione con gli altri in amore affrontate qualche rischio acquario evoluzione planetaria importante che vi stimola ad affrontare le cose con grinta fiducia nelle vostre risorse personali un buon esempio da dare anche se con qualche sacrificio in più una vicenda vi farà riflettere possibilità di trovare in voi stessi la risposta agli interrogativi pesci assecondate il desiderio di uscire da confini per voi troppo ristretti qualche stravaganza servirà a vincere la resistenza al cambiamento cercate un punto d'equilibrio tra introspezione e bisogno di aprirvi agli altri stasera però vedetevi con gli amici